L'ultima speranza dell'umanità! Sono soddisfatta dei vostri progressi! Pronto all'impeggio e armato! Sono soddisfatta dei vostri progressi! Per la regina! Queste misere creature non possono sperare di fermarci! Per l'ordine! Queste misere creature non possono sperare di fermarci! Perram! 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 Rifiuti ambulanti! Vi arrendete così facilmente! Vi mostrate di essere delle vere locuste! Per l'ordine! Per l'ordine! Locuste vittoriose! Per l'ordine! L'ultima speranza dell'umanità! Per l'ordine! Servi la regina! Prima! Riuscito! carne morta locuste vittoriosi per l'orda queste misere creature non possano sperare di fermarci servila regina tornate là e battetevi per la vostra regina per l'orda è il più forte che sopravvive per l'orda Mia, guarda!